Salve ragazzi bentornati sul nostro canale, siamo di nuovo qui con Valentino Rossi in The Game, sempre Francesco Alessandro, ciao a tutti ragazzi, allora siamo a Misano, Misano World tra R1, qualifica e gara, qualifica e gara addirittura, ma mi sa il passo di andare a gara, provo a sopra, provo a fare un giro così, perché Misano, il circolo di Misano non l'ho mai immaginata, non vieni a giocarla come tutta, secondo me, poi, sì ma qui non è il campionato va, una gara con la VR Academy, ti dai punti di reputazione, sia in qualifica che in gara, penso, nullo rosso, qualifica, adesso vediamo, scendiamo in pista, vai, così è molto più serio, siamo rossi, sì, abbiamo cambiato un po' i colori che poteva avere il nostro pilota, bella con il R1, molto bella con il filetto, mi piace molto, attenzione come scuola, è forte, è pesante, è pesante, la senti proprio pesante sotto le mani, è molto, senti i cambi traiettorie, li senti molto pesanti, perché senti molto, molto, molto la pesantezza della motocicletta quando fai i cambi della traiettoria, però c'è da dire che comunque sia la motocicletta che come cilindrata sta superiore a quella della motocicletta, quindi non è che, è un 1000, è un 1000, anzi che riusciamo a farla così tanto bene sta gara, sì, adesso vediamo che tempi facciamo, insomma nell'I1 siamo andati abbastanza forte, anche sull'unico a girare, sull'unico a girare, adesso vediamo quando escono gli altri piloti, magari che come è la situazione, non dovrebbe essere male Misano, ma comunque adesso vediamo in quanto dovrebbe essere l'ultima curva, ma ci avevamo già girato a Misano se non sbaglio, sempre con la R1M, esatto, ci avevo girato io, poi avevi fatto il giro anche tu, sì, che era stato un disastro se non sbaglio, sì, adesso è successo in vista anche quell'altri, non c'è un grande, non c'è una grande, grande a rettilineo, da quando l'ho visto, no, mamma mia, i cambi di direzione sono molto molto lenti, le curve però sono velocissime, sì, ma dico, il cambio di direzione, sì, c'è le curve, due curve molto veloci, non è semplice qua, hai guadagnato un pochino, quanto guadagnato? un secondo e mezzo, mazza, sto andando così tanto veloce, vabbè, adesso vediamo in altri piloti quando scendono in pista come si comportano, si è andato due secondi più forte, ragazzata! che me rialzi in modo così però dai, sono stronzone! bene, 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 me ne stai andando molto bene! eh, no, non so però, non è semplice, eh, comunque, tener testa da uno modo simile, eh! 1.43.2, beh, non è male, eh! perché trova via! ho perso quasi due secondi, non è semplice! ah ragazzo, è andato malissimo, allora ritornerei box perché, anzi, farei un altro giro, che cazzo fai? che dinamica comunque, sì farei un altro giro invece perchè ho paura che mi attacca a piovere e dopo non riusciamo magari a migliorare il tempo ma tanto penso che... dai porco zio dai però che cazzo c'era da 4 secondi, 4 millesimi dai o no eh? che cazzo strosi forte dai non ho moltissimo e taglia più 0,4 eh non riesco a rifilare più di 40 sono riuscito a fare prima secondo me cosa vuoi? beh ho buttato giù 2 secondi a 100 non so se adesso vediamo che sta succede si c'è poi in più 0,7 mamma mia mamma mia comunque sia nel giro precedente si è andato molto molto forte sono andato molto molto forte 1,42 vediamo l'altro pilota e quanto vanno magari dopo finiamo questo giro e poi torniamo ai box vediamo che succede ridamme cassa ridamme cassa che cassa ma non ho preso un secondo addirittura se no è però in gara potresti fare molto bene sai? adesso vediamo adesso vediamo come si riesce come riesco qua 1,2 44 sicuro perché si 44 44 44 e 6 e 5 dovrebbe essere allora torno ai box torniamo ai box vediamo informazioni sessione non so se ho scesi tanti piloti eh comunque no scorri tempo sesto settimo trattura 1,42 ah io penso che sul nono decimo ci arriviamo no nono ah è finito ok nono siamo partiti nono beh vabbè dai partiamo noni venti e rossi parte prima beh è chiaro 1,42 il girato babanico molto forte ok adesso adesso proviamo da un secondo aspetta un secondo si oddio è bene è il gatto? è certo è il gatto ma che sa fa? è il gatto è il gatto ma che è il gatto che è il gatto è il gatto ma è il gatto e l'allocchio è il gatto Ma non c'è il ragazzo. E' il giocatore, è il fanno che ci sono. E' il fanno il casino. E' il giocatore. Ma perché c'era anche la qualifica, l'altra famiglia c'era la qualifica, boh, certo perché sono stronzato, l'aria, ti ho fatto due, mi spendo. Sì. 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 Allora, rieccoci qui alla gara, aria 19 gradi, tracciato 27 gradi, leggermente, no, non lo so, ok, leggermente non lo so, lo so. Se mi chiamo Misano, scendiamo in pista per la gara di Misano con tutti quanti l'R1. Adesso ci inizieranno tutti i numeri disegnati, vedi? Tipo noi. Non ho capito perché i numeri ci buttano un po' più da una parte. Boh, non lo so. Senti che silenzio. Partenza malissima, però avevo Migno, Migno, ci sta uno che si chiama Migno? Sì. Bulega, sì, ci sta uno che si chiama Bulega, Foggia, non lo sapevo. I cambi di reazione sono veramente pesanti. Bagnaglia, Gulega, Fennati, venga, andava forte Fennati. Marini, Marini al fratello. Di Fennati? No, di Valentino dovrebbe essere. Ma dai. Luca Marini. Non lo sapevo. Impressione altro. Vabbè, comunque siamo in seconda posizione a 40. Sicuramente ci ha dato più di un millesimo Rossi visto a quanto gira. Però comunque eravamo in seconda posizione, adesso siamo scesi in quinta. Mamma mia, abbiamo donato il modo per miracolo qui su questo soffronto. Allora, siamo dietro a Baldassarri. Sì, cerchiamo di fare un'interna da panico, ma ci è venuta quasi male. Ria, ce la tenesco. Ma cosa ne è successo? Torniamo indietro. No, vabbè, andava bene fino a qua, però non capisco che diavolo ma è successo, capito? Oh, Morbidelli, Morbidelli, Baldassarri e Valedirolosi. Il quartetto, il quartetto che è là davanti. Mamma mia, via giù, gas aperto qui su questa curva a destra dove si deve chiudere e riaprire il grasso con abbastanza velocità per poi riuscire di nuovo su una curva molto lunga e stretta a destra. Oddio ti prego, falla bene, ecco. Mamma mia. Che hai fatto? Non lo sai, non lo sai, non lo sai. Mettiamo la morte ogni curva che facciamo, è qualcosa di impressionante. Ci buttiamo sulla sinistra, mamma mia, eccolo, eccolo all'uscita sul traguardo, mamma mia, erba, erba per lui, mamma mia. Terzo, dovremmo passare quarti, passiamo al primo giro, quarti, finati, Antonelli, Migno, 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 finati, rossi, finati, non rossi, Antonelli, Marni, Marini. Scusa, non si legge, non tanto, cioè se mi metta che leggi i nomi è un disastro. Tu, pensa qui. Baldassarri, Baldassarri, che cazzo è questo verde, scusa. Antonelli, no, Morbidelli, no, non è Morbidelli, si è Morbidelli. Finale, Morbidelli, Valentino Lussi e Baldassarri, mamma mia. Sorpassato anche i finali, Antonelli, Antonelli, Finale, Baldassarri, Valentino Lussi e tutti. Tutti, tutti. Tutti, senza annunciarli, dimmo tutti, fammo prima. Però è difficile, con l'R1 è veramente difficile, è qualcosa di molto molto presente. Soprattutto io ho paura che ci attacchi a più ora durante l'ultimo giro e che noi ci giociamo... Beh, la vittoria? No, ci buttiamo via le posizioni così. Quando non lo sembra, cerca di spingere fuori, hai visto? Allora... Mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, buttiamo sulla sinistra all'uscita del traguardo. No, quell'altra all'uscita del traguardo. Dobbiamo fargli un'interna abbastanza grave, in modo che cerchiamo di uscire bene. Vediamo il passaggio sul rettilineo, seconda posizione, ultimo giro, iniziato l'ultimo giro, giriamo in 1.43, cazzo, comunque. Non anche giriamo tanto piano, stiamo girando abbastanza velocemente. Contando anche i vari sorpassi. Contando i sorpassi, contando le uscite, contando le varie cose, stiamo girando veramente veloce. Molto molto veloce. M'ho aspettato da girare... Oh! Cazzo è successo qua! Bene, bene, bene. Non è? Va bene, va bene. È un affronto al fisico. Per quanto l'asfalto è freddo, le gomme ce l'ho veramente calde. Per quanto l'aria sia fredda, quindi non è che il pilota fa chissà quanta fatica. Noi siamo molto molto affaticati, diciamo, non leggermente. Però siamo in prima posizione, ultimo giro, ci mancano ancora qualche curva prima del taglio del traguardo. Cerchiamo di tenere testa, ma è difficile chiudere le traiettorie molto bene in modo che non ti sorpassi. Anche perché comunque sia, come sto vedendo, una gara abbastanza difficile che questa moto ti butta molto sull'esterno. Abbiamo sbagliato molto noi a non fare magari una piccola messa a punto vedendo dalle qualifiche che la moto ci buttava nell'esterno. Però, siccome in qualifiche abbiamo fatto un buon tempo, non volevamo andare magari a ruinare qualcosa in gara. Però siamo qua, penultima curva. Ultimiamo più delle dite, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. No, siamo usciti malissimo. Guarda che strunzo però. Eh, ma dai. Eh, vabbè, ma se fanno così però. Eh, bastardo infame, che cazzo. Te conviene di andare ancora più indietro. Eh, no, ma no. Credo che più di tanto non è che. Qui. Si va bene. Vai. Eh, te ne vaffanculo, va. Te ne bastardo. Ah, lei. Dopo questa mega latrata da panico, abbiamo vinto a Misano con l'R1M, fantastica, fantastica gara, molto entusiasmante, mi aspettavo della pioggia invece non c'era. Visto che comunque c'era l'ultimamente tutte le gare che facciamo sotto pioggia. Esatto. Ma porca... Porca lontana che giro che ho fatto. 1,42,6 addirittura superiore a quello delle qualifiche. Da panico. Hmm. Gira velocissimo. Si, molto. Da paura. Premi di gara, va bene, poi vabbè, cose costrutture non ce l'abbiamo perché tanto non si serve. Bonus bloccato, bonus condizione fisica? Eh, dovrebbe essere il prossimo, cioè il prossimo livello che facciamo da condizione fisica al massimo. L'oro. 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 Prossimo. La gara? Se non sbaglio dovrebbe essere Silverstone. Che vittoria di Suster ha dominato la gara, non c'è stata storia, oggi è in gran forma, oggi è in gran forma, davvero bravo devo riconoscerlo. Preparate le valigie, Silverstone arriviamo. Occhio ragazzi, questa è una delle piste più veloci del mondiale, queste piste mi esaltano, forza raga. Eh, speriamo non piovo, voglio spingere al massimo. A posto, finati la gufata. La gufata. Silverstone, 5900 metri. Va bene ragazzi, allora ci salutiamo qua perché Misano è stato più lungo del previsto. Volevo fare Misano e Silverstone ma purtroppo è troppo lunga, è stato troppo lungo Misano. e quindi lo vedremo nel prossimo video. Va bene ragazzi, un saluto da tutta l'equipe di Suster, da Francesco e Alessandro. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.